L'Oggiata ha costruito dei campi di allenamento o pratica o comunque delle simulazioni di campi da golf addirittura a Viale Romania via Parenzo, ha offerto lezioni individuali ai ragazzi il progetto della Louis Sport Academy è il progetto insieme di avere i top atleti e oggi abbiamo avuto alcuni campioni italiani e una parte della nostra squadra nazionale giovanile presente in campo ma anche di portare lo sport a tutti i ragazzi della Louis E' bello e importante che l'Università Louis abbia inserito il golf nella vasta gamma di sport che praticano gli studenti di Louis e che serve a sviluppare lo sport nel nostro paese Questi sono i nostri gioielli Questi tre ragazzi sono la squadra sostanzialmente la squadra nazionale italiana giovanile sono i campioni del futuro Quello che mi ha colpito di questa giornata è stato il rapporto con cui ho avuto con i miei compagni di gioco simpatici socievoli e molto preparati anche nello sport Ho sempre preferito praticare il golf rispetto ad altri sport nonostante mi piacciono quasi tutte le discipline perché l'interiorità della persona è una cosa che viene più risaltata e quindi magari giocare a golf ti denuda e ti mette non solo contro il campo ma anche contro te stesso e quindi è proprio lì che devi tirare il meglio di te e mettercela tutta Oggi è stata veramente una splendida giornata una grande iniziativa per aiutare uno sport in crescita e soprattutto per dimostrare quanto questo sport possa unire persone che effettivamente si incontrano poche volte per aiutare 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 per aiutare